Hanno studiato le tradizioni e la storia dei pescatori torresi e si sono cimentati poi in una gara di pesca. Protagonisti questa mattina gli alunni dell'istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco, in particolare le classi quarte del Plesso Sasso, nell'ambito dell'unità didattica di apprendimento, sapori, tradizioni, leggende di Torre del Greco. Dopo la visita alla chiesa di Porto Salvo si sono recati al porto Molo di Devante per una gara di pesca organizzata dalla Flai CGL. Sono intervenuti Luca Chiusel, segretario cittadino della CGL e Lucia Capezzuto in rappresentanza della Flai CGL. Abbiamo pensato di fare una giornata dedicata al mare in modo particolare per far capire l'esigenza che i bambini hanno rispetto al loro futuro, per quanto riguarda la tutela del mare, per quanto riguarda le tradizioni del mare. Ci sono stati dei bei incontri grazie alla scuola Monsignor Sasso che ha fatto tutto, che insieme a noi abbiamo dato l'anima per questa iniziativa insieme alla chiesa di Porto Salvo. Quindi siamo riusciti a portare avanti un progetto che avevamo già nei nostri cassetti. Oggi lo abbiamo fatto con grande gioia e soddisfazione, soprattutto la partecipazione dei bambini. I bambini oggi hanno passato una giornata bellissima in cui gli hanno insegnato come la rete, che senso ha, che senso ha la pesca, i pescatori, qual è il ruolo che hanno nel nostro territorio. Per noi oggi è un'occasione molto importante perché ci ritroviamo a incontrare pescatori e le nuove generazioni per far avvicinare anche i bambini, anche i più piccoli, alla cultura del pescatore, che è un mestiere antico che ha tantissimi risvolti per il futuro. Ed è importante che anche le più piccole generazioni sentano dall'esperienza viva dei nostri pescatori come si diventa pescatori e quali possono essere i possibili sviluppi per questa professione, sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori, che è il nostro primo obiettivo principale. Siamo qui in conclusione di una unità didattica da parte della scuola, in questo caso la di Nicola Sasso. Per concludere in bellezza questo anno scolastico, siamo qui con i bambini per questa pesca finale, dopo aver visitato anche la chiesa di Portosalvo. Ringraziamo tutti quanti, in particolar modo, il parroco della chiesa di Portosalvo e la CGL. Grazie a tutti e anche ai miei docenti che hanno collaborato in tutto questo lasso di tempo, in tutto questo periodo scolastico. Poi le premiazioni con il sindaco sciente Giovanni Palomba e con il neoeletto Luigi Mennella. Questo è importante perché i ragazzi si avvicinano al mare, si avvicinano a quello che è uno dei mestieri storici anche della nostra città e quindi un'iniziativa lodevole. Mi sono emozionato perché questi bimbi veramente sono una cosa straordinaria e vederli tutti insieme, cimentarsi con la pesca è stata una cosa fantastica. I ragazzi che partecipano alla vita della città è una delle prerogative che io spero si possono mettere veramente in atto.